La campanella incombe ma la scuola toscana è nel caos secondo la CGL. I numeri elaborati dal sindacato a livello regionale parlano di 10.000 insegnanti su 40.000 che ancora non sanno dove lavoreranno e di centinaia che per un errore denunciato dalla CGL nell'algoritmo dei trasferimenti dovranno andare in altre regioni. Il problema, ha detto il segretario regionale della FLC CGL Alessandro Rapezzi, è il combinato delle novità introdotte dalla legge Buona Scuola e dal concorso accusato di aver lasciato a piedi 2.000 docenti toscani. Questo per il sindacato avrà un suo prezzo. Avremo tantissimo bisogno dei precari anche per il prossimo anno. Noi avremo tra 7 e 10.000 precari che dovranno per forza essere assunti per garantire il funzionamento. Oggi quindi noi abbiamo un quarto del personale che non sa dove andrà a lavorare. Resta poi il problema dei presidi che secondo i numeri in possesso del sindacato mancano in 100 scuole toscane su 492 e quello cronico del personale ATA. Da questo punto di vista gli addetti assunti saranno 717, il numero appena sufficiente per il turnover, dice la CGL. Da questa situazione l'idea di avviare una campagna di ascolto. Noi chiediamo alle persone coinvolte nel parco avventura scuola in questi giorni, quindi a chi ha fatto il concorso, a chi ha fatto il trasferimento, a chi sta vivendo questa condizione di incertezza per l'apertura della scuola, di scrivere il racconto della propria vicenda. Sul vicino orizzonte di settembre, se niente cambierà prima, i sindacati ora vedono una cascata di supplenze.